Sono una studentessa all'Accademia di Belle Arti di Urbino, sono all'ultimo anno e mi sto per laureare in pittura. Sono una ritrattista e lavoro principalmente sulla riproduzione di lavori del 1800 e del 1900, come Aies, oppure anche, mi piace tanto anche se non è del perire, Van Gogh. Sono, appunto, come dicevo prima, ritrattista e lavoro con materiali di recupero e a olio. Li modifico in modo da poter lavorare su tutti i materiali. Infatti, spesso lavoro su cartoncini che io poi tratto, ci do tutti i materiali che mi servono per poter fare con l'olio e poi li lavoro come se fossero delle tele e delle cose pregiate, ecco. Questo è un dettaglio di un artista tedesco che è molto recente perché è del 2017 ed è un dettaglio che ho realizzato principalmente su un cartoncino che ho recuperato da una scatola che ho trattato con del gesto e l'ho reso praticamente come una tela, appunto, come dicevo prima. Sopra ho realizzato tutto il bozzetto iniziale e poi ho fatto questa pietà, perché si chiama appunto Warpietà, che era una donna, una mamma che ha perso il figlio, che è un po' come la pietà della Madonna con il bambino, e quindi è una mamma che ha perso il suo figlio e mi piace molto lavorare infatti con le espressioni, con le emozioni, soprattutto emozioni molto forti tra cui la depressione, il pianto, l'ansia e quindi spero che nelle mie opere vengano trasmessi queste emozioni anche con il colore, l'utilizzo di questi scuri molto intensi nello sfondo e queste tonalità un pochino pesanti anche nel volto e nelle vesti dei personaggi. Questo qui è sempre di un artista tedesco, però a differenza dell'altro è una riproduzione del 1800 e rappresenta l'imperatrice Eugenio insieme alle sue dame di corte. Mi piace molto come ho lavorato allo sfondo soprattutto, io lavoro molto sul dettaglio e qui ce n'è tanto di dettaglio. Questo è l'ultimo lavoro che ho realizzato, sempre su un cartoncino che ho riciclato da una scatola e trattato, qui c'è una lavorazione dell'oro ed è un omaggio ad un artista del 1900, in questo caso, Bougierois. Sono due opere che ho voluto mettere insieme e modificare, una è la nascita di Gesù e l'altra è la pietà e la morte, sempre con il tema della morte, della tristezza e delle espressioni. Infatti in questo caso c'è un gioco di sguardi della Madonna, in questo caso, perché è l'unica ad avere uno sguardo differente. Nella nascita la Madonna che dovrebbe essere felice, tranquilla, di avere appena dato alla luce il figlio, è in realtà triste, o almeno è quello che ci fa capire l'occhio che non guarda direttamente lo spettatore. Mentre quello con il Cristo morto è quasi di sfida, diciamo che era assegnato l'occhio della mamma, perché guarda direttamente lo spettatore e sembra voler dire a chi guarda che il figlio è appena morto per noi, quindi per darci salvezza.